Ciao, sono Mimino, il mio lavoro è agente di commercio. Vi parlo della mia esperienza personale. Ho conosciuto il dottor Claudio Saracino di persona, un esperto professionista dell'ipnosi d'ICS, che grazie ai suoi consigli e ai suoi audio mi ha aiutato sia mentalmente che professionalmente. Mi ha dato uno stimolo in più che ho incrementato con il mio lavoro e guadagno. Per cui vi consiglio vivamente di seguirlo. con il cuore, perché funziona davvero ragazzi, incredibile. Ciao a tutti.